Sì, siamo state brave, abbiamo fatto un bel lavoro di squadra tutte, le mie compagne, è bello quando entro e comunque mi danno fiducia, mi arrivano in campo, mi sorridono, mi battono le mani, quindi quello mi dà ancora più forza e energia per aiutarle e fare quello che facciamo semplicemente durante la settimana e proviamo e poi durante la partita proviamo a farlo. Cosa hai pensato quando, facciamo a Dio, su 14-19 per l'oltreo setta e tu entra? Ho provato a... sicuramente un attimo di sensibilizzata, quindi ho detto non faccio quello che faccio durante la settimana con le mie compagne, lo facciamo sempre, lo provo, se va bene è andata bene. Hai fatto un salvataggio da applausi. Grazie mille.